Potrei cominciare questa storia così. C'era una volta il mare, ma era dolce. Con un pizzico di sale che non guasta mai, San Antonio mio, scaccia via tutti i guai. È un viaggio clandestino di una ragazza romena che raggiunge l'Italia, rischiando la vita per tentare di realizzare i suoi sogni. Incepe, oltre ad essere il nome della protagonista, è anche il titolo del monologo che affronta in chiave leggera degli argomenti molto attuali, ma in cui il sorriso si accompagna alla riflessione. Incepe, attraverso questa ragazza, che è la messaggera di questo racconto, attraverso le sue parole riusciamo a riemergerci nella realtà a cavallo tra gli anni 80 e 90, quando ci ricorderemo sicuramente che le guerre e il regime all'est Europa ha portato un'immigrazione forte verso le nostre coste. Questa realtà è tanto lontana quanto vicina, nel senso che erano i nostri dirimpettai, ma ne sappiamo in realtà poco di queste vicende. E attraverso le sue parole emerge quelli che erano i sogni di questa popolazione, che vedeva l'Italia come un bacino di sogni. L'escamotage principale a livello teatrale per raccontare questo è la televisione. Infatti vedrete come ci sarà un video, quindi saranno uniti in un certo senso teatro e televisione, proprio per dare un punto di vista differente e ampio sul tema. Questo spettacolo è stato scritto da Emiliano Loria con l'aiuto del regista Riccardo Brunetti che sono appunto membri storici della compagnia Maranta di Roma. Questo spettacolo è anche stato vincitore dei teatri di sabbia ed è stato semifinalista al Roma Fringe Festival. Con un costo di 5 euro a biglietto, lunedì 25 agosto alle 21.15, approderà l'Arena BCC di Fano, questo spettacolo dedicato al tema dell'immigrazione. È stato qualcosa che ci siamo trovati lungo la strada e volentieri, visto i premi che hanno raccolto, l'abbiamo inserito fuori rassegna. La rassegna proseguirà con il recupero dell'opera della Compagnia del Gallo, però questi ragazzi sono veramente bravi e meritano la presenza di un folto pubblico. Il Coso diceva che bisognava partire, che bisognava andare dall'altra parte del mare.